19 giugno 2020, Sujibiru Meris Indomunosta, questa è una frase del grande dodore che presumibilmente è stata detta quando era detenuto a detenzione che l'ho portato alla morte per democidio. 19 giugno 2020, Prego tutti coloro che cercano di far intervenire a mio favore quei soggetti che si identificano come indipendentisti, ma che invece sono tutti quanti rispettosi delle leggi italiane che opprimono il popolo sardo, né a me né a nessuno di noi serve il loro sostegno, dodore Meloni. Questa frase è di una inaudita potenza devastante, ma non ancora del tutto compresa dal mondo indipendentista, specie da coloro che ambiscono a poltroni o favori italiani in terra di Sardegna. E a proposito di separare il grano da elementi inutili o dannosi per me e per molti altri, dodore è stato il setaccio Sujibiru che separa nel mondo indipendentista chi ha elevate intenzioni patriottiche, da chi ha infime urgenze anche elettorali che collimano con le strategie nascoste e colorizzanti sulla nazione sarda, che non necessariamente hanno la loro genesi in Italia, ma piuttosto nate da bisogni mondialisti appiattenti e livellanti, tipici dei modi di operare delle fetenze globalizzanti. Gli indipendentisti in genere considerano l'Italia come sua nemica, diciamo che il vero nemico fosse l'Italia e basta, ce ne saremo già liberati, diciamo che il nemico sono le fetenze globalizzanti. Ormai è ben noto a tutti che gli argini al mondialismo imperante sono, che ne dica la propaganda di regime, sani principi ancestrali e nazionali, altrettanto positivi bisogni della gente, etichettati dalle televisioni del potere come beceri populismi. E vive il populismo, molto meglio della globalizzazione. Allora, ho letto qualcosa di favorevole, questo articolo è intitolato Faciloneria tipicamente italica da paese culturalmente sottosviluppato. L'articolo è questo, ho letto qualcosa di favorevole alla abolizione del finanziamento all'editoria, come a dire che le piccole testate devono morire, mentre i grandi giornali continuano a ricevere omaggi da multinazionali e fetenzie. Magari l'analisi fatta è un tantino sempliciotta, magari i giornali critici col sistema vengono demoliti dal sistema, magari si collocano i vari schieramenti senza tener conto del principio della pillola rosa, pillola bianca, pillola blu, pillola gialla e pillole di tutti i colori. Magari le nostre conclusioni politiche fanno acqua da tutte le parti, magari leggere questo articolo può essere illuminante e aiuta a sconfiggere la faciloneria. un articolo di Carlo Pompei, il direttore di linea a QN. E quando in media, lo trovate su Iolo77 e a questo link, e quando in media chiederanno provocatori dove il governo troverà i soldi per mantenere le sue promesse e magari il governo risponderà cominciamo da voi. mi sa che non avete capito un fico secco di come va l'informazione in Italia, non avete capito a chi fa comodo la concentrazione delle testate giornalistiche. Magari evidentemente non capite nulla di democrazia, magari non sapete niente di globalizzazione e mondialismo. quando vedo pubblicazioni simili capisco come mai siamo a questo infimo livello culturale, la faciloneria impera e le fetenzie gongolano. Signori, vi informo che vi prendono per i fondelli con una facilità incredibile. Sospetto che vi meritiate tutto quello che vi stanno facendo. Molti non hanno capito che ciascun popolo, se tiene al benessere di se stesso, si deve governare da sé e deve combattere per diventare stato, deve ripudiare intromissioni esterne. Molti non hanno capito che questa Europa è nata in sfregio alla gente, molti non hanno capito che ogni popolo nazione deve avere la sua moneta popolare, non privata. Molti non hanno capito che l'Italia sta facendo alla Sardegna quello che l'Europa e l'Atlantismo fa all'Italia. Una colonia che colonizza un suo popolo è ridicola e dimostra che i politici eletti con democrazia delegativa diventano giocoforza ostaggi delle oligarchie e delle multinazionali. Termini che riassumo con la parola fettenzie o fetenzion se volete. Questa immagine qui è abbastanza emblematica. Molti non hanno capito che l'Italia non è uno stato, non è una democrazia. Molti non hanno capito che in situazioni di palese violazione dei diritti della gente è possibile smentire la storia e ribellarci di nostra volontà e non, come è successo finora, farsi indirizzare in rivoluzioni o primavere e sponsorizzate dalle fettenzie. Nuovi venti di consapevolezza soffiano forte. Le fettenzie lo sanno ed hanno capito che il loro tempo sta per terminare. E allora, in un estremo tentativo di non soccomere, sferrano gli ultimi colpi di coda. Molti non comprendono che i regimi stati, come quello in auge in Italia e nel mondo, specie occidentale, non sono mai a favore della gente. Gli stati che aderiscono a questo sistema sionista sono a carattere democida. Mi stupisco quando vedo commenti da parte di chi ha un cognome palesemente sardo interessarsi di piccolissima politichetta italica e a questo punto mi frulla in mente di fare una domanda a chi si chiama Corrias, Abis, Pintus, Melis, Loi o Carrus. Voi vi considerate sardi o italiani? Se vi interessate di misera politica italiana, presumo che vi considerate italiani. Presumo che scuole e televisioni abbiano fatto bene il loro mestiere. Magari un po' vi vergognate di essere sardi. Magari pensate che la cultura dei vostri avi sia immensamente inferiore a quella italica. Magari vi sbagliate. Magari pensate che il colonizzatore potrebbe avere con passione delle vostre sofferenze. E per una volta si decida a bastonare meno forte. Contenti voi, contenti tutti. Continuate ad andare a votare, mi raccomando, e soprattutto pagate tutte le imposte, altrimenti chi vi bastona potrebbe non sentirsi più autorizzato e imbrogliarvi. E finché per la gente il concetto di legalità prevarica il concetto di legittimità e le leggi del diritto divino saranno costantemente disattese, dico che vi meritate tutto quello che vi stanno facendo. Mi sbilancio e a costo di farmi dei nemici parlo dei cosiddetti italiani. Che il popolo italiano non esista per coloro che hanno occhi per vedere è una sacrosanta verità. Un gran numero di pubblicità televisive insiste nel far credere che esiste e inserisce tra le parole dette e frasi tipo italianità, made in Italy, prodotto naturale, autenticamente italiano e via discorrendo. La parola Italia è come il prezzemolo dappertutto. A proposito del made in Italy la dicitura è scorretta perché il made in Italy è una derivazione del made in Sardegna. Come ben descritto in questo articolo il made in Italy è nato in Sardegna che trovate su Iola77. E siccome sappiamo che Sardegna non è st'Italia, possiamo avvallare pur con centomila riserve anche la dicitura made in Italy. Ho già parlato degli italiani in questo precedente articolo ma ora mi spingo in ulteriori considerazioni, voi italiani da Iola77. Nell'accezione comune, anche per la storia, l'italiano è considerato pusillanime e tradittore. E lo so, sono antipatico. E che ci posso fare? E siccome non sia esattamente il concetto che ho degli italiani, qualche fondo di verità potrebbe pur esserci. Le leggende nascono sempre da un fondo di verità. Percorro lo stivale da nord verso sud e parlo, o meglio non ne parlo perché non li conosco abbastanza, di due popoli, i valdostani e gli altoatesini. Mi sento di poter ipotizzare che siano due popoli che, a causa della loro vita montanara, siano ben integrati nella natura e presumo che la rispettino oltre ogni limite due popoli che mi sento di definire analogici proprio come noi sardi. Senza avere nessun riscontro oggettivo i piemontesi non godono delle mie simpatie perché associo quella parola a secoli di dominazione sulla nostra nazione. I Lombardi mi fanno tenerezza con il loro arrabbattarsi verso problemi terreni. Non so quanto faccia loro onore la frase che viene loro attribuita. Ah, facciamo tutto noi. I Veneti sono legati ai sardi attraverso il comune sentimento del bisogno di libertà. Penso che sia abbastanza e concludo qui il discorso legato alla Serenissima, dicendo che la frase Viva San Marco e Forza Varis mi è particolarmente gradita. Non mi dilungo a parlare del civilissimo e concreto popolo friulano. Ne ho parlato spesso in questo sito. La mia settennale esperienza di vicinanza reale e spirituale con esso è ben illustrata in questo sito da aneddoti, racconti ed esperienze di vita. Mi sono letteralmente innamorato di una loro famosissima frase coniata dopo il disastroso terremoto. Fasindi Bessoi che è tradotto in italiano significa facciamo da noi. Che è ben diverso dal lombardo faccio tutto io o dal pensiero tutto suddista che aspetta uno stato inesistente per lenire i danni causati da terremoti, alluvioni e quant'altro. Ho alcuni amici ligori con i quali mi rapporto in maniera costruttiva. Penso però che la loro proverbiale tirchieria non sia una storiella senza riscontri oggettivi. Mi è molto simpatico il popolo umbro. Non so dire il motivo, ho attraversato la sua terra varie volte ed ho spesso captato vibrazioni positive. Un altro popolo che conosco abbastanza bene è l'Emiliano Romagnolo. ci ho lavorato tre anni. Mi piace il loro concetto del vivere, concretezza e spensieratezza. Un popolo positivo tralasciando il fatto che in terra Emiliano Romagnolo ho notato quanto possono essere deleterie concezioni ideologizzate a senso unico. Il popolo meno legato al mio perché con concezioni diametralmente opposte è il popolo toscano. Eppure apprezzando il loro amore per la natura e il loro passato, la loro predisposizione innata a valorizzare le loro eccellenze, sono certo che tra sardi e toscani esista una ben fondata sorta di incompatibilità. La mia esperienza lavorativa in terra toscana è stata a dir poco disastrosa. Ho trascorso alcuni mesi nelle marche per lavoro, dico solo che non vorrei ripetere quell'esperienza. Del resto loro stessi ammettono che il detto meglio un morto dentro casa che un marchigiano dietro la porta ha un suo fondamento. Va detto comunque che il loro spirito imprenditoriale, specie in ambito manufatturiero, è assolutamente valido e replicabile. Un altro popolo cui provo vicinanza è il popolo avruzzese morizzano. Penso che dopo il popolo friulano sia il più simile al mio. Forse sbagliando identifico il popolo laziale con il popolo romano. Se così fosse preferisco non commentare oltre. E veniamo ai campani, alla loro napoletanità. È un popolo che vorrei conoscere a fondo per sfatare luoghi comuni e capire da dove proviene la loro concezione poetica della vita. Per conto mio è uno dei popoli più interessanti che abitano allo stivale. Ho conosciuto molti pugliesi e devo dire che con loro mi sono trovato sempre a mio agio. Gente decisa che non ha paura di dire frasi scomode o effettuare azioni sopra le righe. Un altro popolo che suscita la mia curiosità è il popolo che abita la Basilicata. Penso che incarni quei valori di ruralità che tanto ammiro. Ho molti, molti amici calabresi, sia virtuali che reali. Spero che un giorno deciderò di visitare quella terra che tanto mi attira e assaggiare le sue eccellenze gastronomiche. Che dire del popolo siciliano? Un popolo che più di ogni altro rifiuta nei fatti ingerenze statali. Una terra pregna di storia quasi come la terra sarda, gente che si unisce al mio popolo, che si unisce al mio popolo quell'inspiegabile frammistamento di amore e odio che solo gli isolani possano concepire. Riguardo al mio popolo mi preme a fargli un avvertimento. Non cercate di capirci, non ci riuscirete. Comunque vi esorto a leggere questo articolo. Noi sardi. dai, io l'ho 77. Bene. Anche stavolta io l'ho all'antipatico dimostrato quanto è poco accorto. Spero di non essermi fatto troppi nemici. Le mie dissertazioni sono state a carattere individuale, personale. Sono in attesa che qualcuno mi smentisca coi fatti che certe cattiverie che ho scritto non hanno fondamento. Di questo ne sarei contento. In conclusione, per conto mio, penso che tutti i popoli siano da apprezzare per il fatto di essere forzosamente controvoglia sottomessi alle logiche delle fetenzie. E se qualche punta di antipatia per certi atteggiamenti esiste, penso che, dimenticandoci il fatto che in Italia esiste un solo popolo e acclarando come nella logica che esistono molti popoli e molte nazioni, forse qualcosa potrà cambiare. Ciascuno di noi ami il proprio popolo, le sue specificità, i suoi particolarismi, lavori per costruire orgoglio di appartenenza alla propria madre terra, alla propria nazione. Cerchi di esaltare le sue eccellenze e correggere le proprie mancanze. E soprattutto tutti insieme non diciamo più di essere italiani, ma diciamo di essere veneti, siciliani, toscani o calabresi. siamo tutti popolo, siamo tutti in cammino verso la libertà.